La Promobol spacca, la prima in casa vale 3 punti. Promobol Sanitars Cussago, spacca volley 3-7-1. I parziali 25-16, 18-25, 25-16, 25-13. Arbitri dell'incontro Giannini e Gabbetta. Le durate dei set 21, 22, 23 e 21 minuti. Gara a porte chiuse. A Cussago, gioco, carattere, attenzione, determinazione. Gli ingredienti messi sul tavolo dalla Sanitars Cussago nella prima partita casalinga del campionato di Serie B2 servono la ricetta perfetta e valgono il 3-1 contro l'esperta formazione della Spacca Volley. Contro le Veronesi, il sestetto messo in campo da coach Gianni Taramelli, diagonale Conizzo e la nuovamente disponibile Salvetti, Marinoni e Ducoli in banda, al centro Ferrari e Piantoni e il libero Peccalli a ministro della difesa. Interpreta così una gara di maturità e si prende tre punti importanti per la classifica. La buona inerzia della serata si vede sin da subito, con le Tigri che mostrano un'ottima difesa e hanno il graffio giusto in attacco. Non solo, quello che sarà poi un'arma per tutto il match, ovvero il servizio, fa male sin dai primi scambi, valendo punti diretti, ma pure tenendo in scacco la ricezione ospite. Va da sé che il punteggio, mattone dopo mattone, cresca per la Promoball e passi dal 7-6 al 10-6. Quindi, sull'11-6 in cattedra sale Piantoni, che mette in firma una serie di fast propizia al 13-7. Il duo Ferrari-Salvetti è protagonista dei minuti a seguire, quelli che valgono la corsa sul 19-14, mentre un ace di Ducoli allarga ancor più la forbice e obbliga il tecnico avversario a chiamare il tempo sul 20-14. La Sanitars Gussago è però lanciatissima e lo score con cui si chiude la frazione ne è testimone, 25-16 e vantaggio servito. La buona onda sembra mantenersi anche in avvio del secondo set, quando, grazie anche alla pressione dei 9 metri, le padrone di casa volano sul 5-1. A questo punto, però, qualcosa scricchiola. Per contro, la Spaccavolley fa il suo e riesce ad agganciare sul 5-5. Coach Taramelli ferma allora tutto. Al rientro, Capitano Izzo gioca una palla di seconda che vale il 7-6. Ma un po' di incertezza si insinua tra le maglie, tanto che da una parte all'altra del campo si commettono errori che tengono il punteggio in equilibrio. La Spaccavolley riesce quindi a mettere la testa avanti e, seppure in un secondo momento, la Sanitars Gussago provi a non farlo scappare via, complici anche gli errori proprio biancorossi, conquista il pari con un 18-25. Tutto da rifare dunque, ma Izzo e compagne non si scoraggiano, anzi, ripartono con lo stesso sestetto e si affidano al loro punto di forza, la battuta. E' proprio la capitana a dare il là agli ace che spianano la strada. Piantoni mette a terra un buon attacco, quindi è Marinoni prima a timbrare direttamente dai 9 metri, poi a sfruttare al meglio una palla slash che vale il 5-1. Ducoli si esalta, finalizzando un clamoroso lungo linea 7-3, quindi ancora servizi al Fulmicotone e attacchi vincenti piegano il periodo sull'8-3. La Promobol è attenta, è concentrata, la Spaccavolley tenta ancora qualche contromisura, mescolando un po' le carte, ma non ce n'è. Le Tigri girano a meraviglia, Salvetti mette una parallela profonda per il 14-7, con le compagne prende ancora margine, 16-7, poi per le sue mani passa il 18-8. Marinoni sfodera due difese impressionanti, cui fa seguito un palleggio in fondo al campo di Izzo, e prima che la già citata Marinoni chiuda per il 25-16, un doppio muro di piantoni ribadisce la supremazia della squadra. Sulla scia di tutto il buono visto fin qui, la Sanitas Gusago si conferma anche nella quarta e decisiva frazione di gara. Determinazione e concentrazione si mantengono alte, il servizio e lama affilata e i titoli di coda all'incontro appaiono presto all'orizzonte. A un ordel vero, avanti 7-3, la Promoball incassa un parziale ritorno ospite, 9-6, 13-11, ma è brava a togliere le castagne del fuoco prima che brucino. In un amen si catapulca al 19-11, poi gestisce e si prende l'incontro con una battuta salto spinta di Ducoli, che vale il punto diretto e la partita. A gioco fermo non può che essere contento coach Taramelli. Sono molto soddisfatto, dice. Non si nasconde quindi il tecnico. Si è finalmente visto il frutto del lavoro in corso da mesi in palestra. La scorsa settimana con Bedizzone, al di là del risultato positivo, erano mancati atteggiamento e convinzione. Invece, con la spacca volley, squadra più esperta e con giocatrici della varietà di colpi notevoli, siamo stati aggressivi e determinati e bravi al servizio, tanto da costringere l'avversarie ad un gioco obbligato. Molto bene, inoltre, la reazione dopo il secondo set è perso, così come la concentrazione sugli scambi lunghi e l'attenzione sul parziale, che ha poi deciso la gara.